Quanto è stato pagato Robert Downey Jr. per il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe? Quanto ci piace parlare di soldi? Prima di rispondere a questa domanda bisogna fare una premessa. Robert Downey Jr. è tuttora l'attore dell'MCU più pagato. Solo per Civil War ricevette 40 milioni, per Endgame più di 75. E se uniamo i cachet di tutti i film in cui è comparso, il nostro caro RDJ ha raccolto circa 500-600 milioni. Ma arriviamo al suo ritorno come Dottor Destino. L'unica condizione richiesta da RDJ per il suo ritorno era che tornassero anche i fratelli Russo, cosa che effettivamente è successa. Mentre però i fratelli Russo riceveranno circa 80 milioni per la direzione dei prossimi due film degli Avengers, secondo le fonti di Variety, l'assegno che verrà staccato per il ritorno di Robert Downey Jr. sarà sensibilmente superiore al cachet dei Russo, cioè più di 80 milioni. Non sappiamo la cifra specifica, ma praticamente per il ritorno di RDJ e dei fratelli Russo, tre stronzi verranno sborsati circa 200 milioni, circa. A questo si uniscono una serie di benefit che il nostro RDJ riceverà, tipo un jet privato, un servizio di sicurezza interamente dedicato a lui e un intero parco roulotte per le riprese. Ora, lungi da me giudicare, sono felice di questo ritorno e se Disney, Marvel o chi per lei è disposta a sborsare così tanto è perché evidentemente l'investimento vale la spesa. Detto questo, la madonna!